carissimi pace buona giornata di benedica oggi ringraziamo il signore perché ci dà un nuovo giorno di vita lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore perché non è scontato aprire gli occhi un nuovo giorno e se oggi lo abbiamo fatto è solo per la grazia del signore leggiamo un breve verso veramente breve verso si trova in efesina capitolo 4 verso 27 dove ispirato dallo spirito santo l'apostolo scrive alla chiesa di efeso non fate posto al diavolo dio si è lodato perché la nuova nascita è qualcosa che ci libera dalla schiavitù del peccato ci dona nuova vita e ci permette quindi di essere liberati dalla presenza di questo antipatico e fastidioso inquilino vale a il diavolo e lui che infatti prima aveva il controllo della nostra vita quindi del nostro cuore era lui che guidava i nostri pensieri i nostri atteggiamenti i nostri propositi poi è arrivata la grazia di cristo è arrivato il signore in tutta la sua gloria in tutta la sua potenza in tutta la sua bellezza tra vite l'evangelo ci ha rivelato la nostra condizione di peccato ma anche la salvezza che lui aveva acquistato sulla croce e da quel giorno siamo diventati appunto per grazia figli di dio questo naturalmente non significa che l'avversario abbia rinunciato definitivamente a noi ne significa che possiamo stare tranquilli perché tanto o egli non proverà a tornare a prendere il controllo dei nostri pensieri anzi l'avostolo pietro dice che il diavolo va intorno a noi come un leone ruggente cercando chi possa divorare e questo deve essere non un motivo di paura ma sicuramente un qualcosa che ci deve spronare alla vigilanza per evitare che appunto il diavolo possa tornare a trovare posto nella nostra vita questo non significa che dobbiamo per forza di cose pensare a crimini e ferrati che andremo a compiere fare posto al diavolo non significa che dobbiamo arrivare a uccidere a rubare in una banca a commettere adulterio o altre cose certo anche questo è fare posto al diavolo ma fare posto al diavolo significa più in generale dare di nuovo spazio alle abitudini carnali che magari ci hanno accompagnati negli anni che hanno preceduto la nostra conversione fare posto al diavolo significa dare di nuovo spazio alla dissolutezza all'impurità alle nemicizie alle discordie alle gelosie alle ire alle contese alle divisioni alle invidi alle ubriachezze e qui sto citando naturalmente l'elenco dei delle opere della carne che paolo fa in galati 5 22 e quindi signori ci guardi ci guardi affinché tutte queste cose non trovino nuovamente spazio nella nostra vita ma che anzi possiamo ogni giorno di più santificarci quindi separarci da queste cose e più in generale dal modo di agire di questo mondo corrotto in cui ci troviamo noi non vogliamo che il modo di pensare che è intorno a noi e che spesso è contrario alla volontà di dio possa in qualche modo o influenzare il nostro modo di percepire le cose no no noi vogliamo che sia la parola del signore a influenzare la nostra vita a guidare i nostri pensieri e a mostrarci la strada per lungo la quale dobbiamo camminare perché solo allora saremo al sicuro e se da una parte c'è l'avversario che sta alla porta del nostro cuore spia e bussa ripetutamente perché vuole entrare dall'altra parte ci siamo noi cristiani che vogliamo essere di quelli che dominano il peccato che dominano le tentazioni e che non danno spazio a satana ma anzi si aprono sempre di più nel cospetto di dio per poter vivere una vita ogni giorno più consacrata al signore e ogni giorno più separata dalle attitudini peccaminose di questo mondo è vero il mondo va verso la deriva e credo che tutto quello che stiamo vedendo sotto i nostri occhi non può che intristirci ma noi cristiani vogliamo invece continuare a camminare lungo la via della perfezione per poter afferrare ciò per cui siamo stati afferrati per poter raggiungere la perfetta statura di cristo per poter essere un giorno accolti nel cielo ed entrare nella gerusalemme celeste quale gioia fratelli e sorelle sarà stare nella presenza di dio per l'eternità quale gioia godere di questa nuova creazione questi nuovi cieli e questa nuova terra quale gioia poter essere di quelli che camminano per le strade della gerusalemme celeste fratelli non facciamo posto al diavolo sorelle non ridiamo spazio alle abitudini carnali che ci hanno caratterizzato prima della conversione anzi fuggiamo da tutte queste cose e permettiamo alla parola di dio di modellare e plasmare la nostra vita e certamente ne trarremo beneficio noi ne trarà beneficio la testimonianza dell'evangelo altri saranno attratti all'evangelo stesso e magari proprio nelle nostre case vedremo qualche cuore duro aprirsi dinanzi alla parola di dio forse i nostri figli il coniuge qualche parente caro che deciderà di andare al signore per potergli appartenere quale gioia sarà se non daremo posto al diavolo noi vedremo anche questo perché il desiderio di dio è che ogni uomo sia salvato che ogni donna sia salvata e lui lo vuole compiere anche attraverso la nostra buona testimonianza che la grazia di dio la pace l'amore la presenza del signore sia con tutti quanti noi dio ci benedica ancora in questo nuovo giorno grazie a tutti grazie a tutti